Se volete avere anche voi tutti i nuovi veicoli del DLC, Los Santos, Drug War, come anche giunto di denaro, giunto di luxo, proprietà, veicoli più costosi del gioco, il tutto sul vostro account di GTA 5 online oppure account moddati per tutte le piattaforme, potete contattarmi a tutti i contatti che troverete in descrizione come Telegram oppure Instagram. Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale, io sono Griggs, oggi ragazzi sono qui finalmente, signori miei, ritornato, con un nuovo video su GTA 5 online. Oggi ragazzi sono qui in cui, come avete detto dal titolo, vi mostrerò tutti i contenuti del nuovo aggiornamento parte 2 Drug Wars rilasciato ieri giovedì 16 marzo 2023 su GTA online. Vi mostrerò ragazzi in questo video quindi tutti i nuovi contenuti rilasciati con il nuovo aggiornamento come anche vi farò una guida su tutte le nuove 5 missioni rilasciate da Rockstar Games appunto con questo nuovo aggiornamento. Chiaramente poi per ulteriori approfondimenti riguardo queste missioni usciranno altri video sul canale. Lo so ragazzi che nella giornata di ieri molti youtubers hanno fatto il video a riguardo dei contenuti, vi hanno mostrato questo mondo e quell'altro ma indovinate un po' mi importa una grandissima sega, il canale ragazzi è mio e ovviamente ci faccio quello che voglio. Quindi se già avete visto i contenuti da altre persone, tanto di cappello. Nel caso invece ancora non abbiate visto i contenuti di questo nuovo aggiornamento e volete saperne di più insomma su cosa Rockstar Games ci ha rilasciato appunto nella giornata di ieri, vi invito a guardare questo video perché sarà un video completo e soprattutto dettagliato in cui appunto vi spiegherò tutto quanto riguardo il nuovo aggiornamento. Dalle missioni fino ad arrivare ai nuovi contenuti aggiunti con questo aggiornamento. Detto questo ragazzi dunque prima di iniziare sapete già cosa fare mi raccomando pollicione in su bomba che a me aiuta veramente tantissimo. Inoltre mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti se non l'avete ancora fatto anche perché ragazzi come potete vedere da questo grafico più dell'80% di voi guardano i miei video ma non sono iscritti al canale. Quindi mi raccomando iscrivetevi per non perdervi futuri video in arrivo come anche glitch di GTA 5 online che caricherò appunto qua sul mio canale. E detto questo ragazzi insomma senza perdere tanto altro tempo buttiamoci nel vivo del video. Voglio iniziare a parlare di questo DLC partendo dalla patch fisica. Stranamente ragazzi per questo aggiornamento non c'è una patch fisica da scaricare. Infatti ieri mattina intorno alle 11 Rockstar Games praticamente è andata ad aggiornare quello che sono i contenuti all'interno di GTA Online. E aggiornando questi contenuti è andata ad aggiungere appunto le 5 nuove missioni che fanno parte del DLC Drag Wars chiamate Ultima Dose. Questa categoria di missioni Ultima Dose si suddivide in 5 missioni che vi mostrerò in questo video. Oltre a questo come appunto fa ogni giovedì è andata ad aggiornare anche i bonus, i sconti e quant'altro. Quindi parlando della patch fisica nel video in cui vi ho parlato dell'annuncio di questo DLC ho detto che ci sarebbe stata una patch fisica da scaricare. Fortunatamente ragazzi non è così perché questa patch fisica l'abbiamo scaricata tutti quanti circa 2 o 3 giorni fa. Infatti se non erro o il 12 o il 13 di marzo c'è stata una patch fisica da scaricare per GTA per tutte le console. Infatti ragazzi questo parte 2 di questo DLC Drag Wars è stato introdotto per tutte le console. Molte persone su internet si sono chiesti a cosa servisse questa patch fisica che appunto abbiamo scaricato tutti quanti. Ebbene ragazzi in quella patch fisica c'erano praticamente insomma le missioni come anche i nuovi contenuti di questo aggiornamento. Ecco perché questa volta stranamente per la prima volta nella storia di GTA Online un DLC non si scarica tramite patch fisica ma è già presente all'interno del gioco. Quindi se state guardando questo video non avete ancora acceso GTA Online andando nell'online ragazzi troverete tutto quanto. E in questa patch fisica si trovavano appunto i file dell'aggiornamento parte 2 ultima dose del DLC di Drag Wars. Parlando principalmente di tutti i nuovi contenuti facendo quindi una panoramica generale abbiamo le 5 nuove missioni di DAX in cui appunto la storia tra virgolette di questo DLC va a continuare. Due nuovi veicoli di cui il veicolo super ovvero la Ocelot Virtue sarà sbloccabile completando tutte le 5 nuove missioni insomma del DLC Drag Wars ultima dose. Chiaramente se la prima parte del DLC non l'avete ancora giocata quindi le missioni di prima dose per sbloccare questa nuova super che apparentemente non si trova sui siti di internet di GTA Online dovrete completare sia la prima parte come anche la seconda parte delle missioni di DAX. Mentre per quanto riguarda un nuovo veicolo acquistabile per tutti quanti questa è la Willards Eudora al costo di 1.250.000 dollari che potete trovare sul sito di Southern San Andreas. Inoltre abbiamo nuovi vestiti probabilmente forse anche qualche nuova arma che io in live giocando non ho visto all'Ammunation comunque fatevi un giro e fatemi sapere qua sotto nei commenti come anche nuovi vestiti, nuove maschere, nuovi tatuaggi e quant'altro. Quindi diciamo che sì nulla di che però insomma ragazzi i contenuti di questa parte 2 del DLC ci sono. Parliamo ora dunque delle missioni parte 2 del DLC Drug Wars. Come vi ho già detto queste missioni si chiamano Ultima Dose ed è una categoria di missioni che vanno a continuare praticamente la storia del DLC Drug Wars di DAX e della sua vendita insomma degli acidi. Per sbloccare queste missioni è davvero molto semplice per prima cosa dovrete entrare in GTA Online a questo punto aspettate in sessione per circa un 10-15 minuti di gioco e una volta fatto questo DAX vi chiamerà insomma dicendovi di recarvi al Freak Shop perché ci sono praticamente nuovi incarichi che appunto vanno svolti. Questi nuovi incarichi sarebbero appunto le nuove missioni parte 2 del DLC quindi vi chiama DAX voi accettate la chiamata una volta fatto ciò recatevi al Freak Shop e qui ragazzi comparirà il solito pallino giallo fuori dal vostro Freak Shop in cui se ci camminate sopra e premete freccia destra come potete vedere inizierete appunto la serie di missioni Ultima Dose. Ovviamente per avere accesso a queste missioni vi ripeto e vi ricordo che dovrete completare la prima parte di questo DLC quindi completare le 6 missioni di Prima Dose perché questo DLC si divide in due categorie di missioni ovvero Prima Dose e Ultima Dose. Ultima Dose sono le missioni rilasciate ieri con appunto il nuovo tra virgolette DLC che ripeto non si scarica tramite patch fisica la patch l'abbiamo già scaricata qualche giorno fa. Oggi diciamo che Rockstar insieme diciamo all'aggiornamento dei contenuti settimanali quindi bonus, sconti, veicolo del podio, trofeo eccetera ha inserito appunto anche questi nuovi contenuti di questo DLC per appunto proprio farvela terra terra insomma per farvi capire. Quindi per iniziare queste missioni è davvero molto semplice insomma camminate sul pallino giallo e qui ragazzi potrete continuare le missioni di DAX per appunto giocare queste nuove missioni. La posizione di DAX e comunque del Freak Shop è questa che state vedendo in questo momento del video comunque ragazzi la conoscete già se avete completato la prima parte di questo DLC quindi le missioni di Prima Dose. Le missioni di DAX praticamente si troveranno fuori dal Freak Shop. Uscite dal Freak Shop troverete il pallino giallo ci camminate sopra e qui potete giocare queste nuove missioni. Le missioni come ho già detto sono 5 e purtroppo in queste missioni non può essere cambiata la difficoltà ma dovrete solamente insomma giocare queste missioni a difficoltà normale cosa molto importante fino alla mattina del 29 marzo queste missioni come anche la prima parte delle missioni di Drag Wars ovvero Prima Dose avranno il bonus doppio guadagno di dollari e RP. Le missioni sono 5 e queste sono Operazione Straordinaria, Gli Insoliti Sospetti, Freed Mind o Freed Mind vabbè insomma il titolo è questo, Terapia d'urto ed infine Budon Kadonk. Parlando della prima missione è davvero molto semplice anzitutto insomma una volta averla avviata tramite la sala d'attesa ci sarà un filmato iniziale in cui insomma ci sarà questo strano personaggio chiamato Labrat con un ananas in testa va bene? Vi fate il filmato e praticamente questo Labrat ovvero questo personaggio con l'ananas in testa viene rapito dai nemici quindi vi fate il filmato e una volta fatto questo inizia la missione. Per svolgere la missione tutto quello che dovrete fare insomma sarà semplicemente ammazzare i nemici che arriveranno fuori dal vostro freak shop e appunto voi dovrete ammazzare i nemici e farvi strada liberandovi dai nemici. Un consiglio che vi do generalmente per tutte le missioni è quello ovviamente di stare attenti e soprattutto di avere snack e giubbotti quindi di fare un bel carico di snack e giubbotti come anche di munirvi delle giuste armi. Io vi consiglio di utilizzare la carabina che sia speciale o quella d'ordinanza oppure l'MG da combattimento oppure il fucile a pompa d'assalto per appunto ammazzare i nemici a distanza d'avvicinata. Se sapete giocare sapete insomma muovervi durante queste missioni i danni che dovreste ricevere saranno relativamente pochi quindi non dovreste essere diciamo molto feriti dai nemici. Comunque cercate di stare attenti e di dare un'occhiata alla barra della vita quando fate queste missioni come vedete che la barra inizia a scendere o comunque vi trovate a metà barra un quarto della barra subito ragazzi andate a snackare. In questo modo insomma se vi sapete muovere e sapete snackare al punto giusto e riuscite a farvi strada tra questi nemici dovreste riuscire a completare la missione senza troppi problemi. Una volta che appunto avrete ammazzato tutti i nemici semplicemente tornate da Dax aspettate diciamo che il dialogo finisce ok? Una volta fatto questo la missione si andrà a concludere e boom ragazzi prima missione completata come vedete davvero molto semplice. Per continuare a questo punto dovrete aspettare la chiamata di Dax in cui vi chiamerà e vi dirà di proseguire con queste nuove missioni. Quindi lasciatelo parlare e una volta fatto questo sarete pronti ad avviare la seconda missione. Il consiglio personale che vi do è quello di andare all'agenzia se ce l'avete o comunque all'auto officina o in un qualsiasi negozietto della città per fare un bel carico di snack. Quindi comprate tutti gli snack al massimo come anche i giubbotti antiproiettile. Mi raccomando fate questa cosa ogni volta che dovrete iniziare queste missioni. Questo perché purtroppo ho notato una leggera difficoltà nell'ammazzare i nemici di queste nuove missioni. Devo dire che fanno molto danno soprattutto se non state attenti ragazzi fallirerete le missioni come se fosse burro. Infatti diciamoci la verità nessuno ha voglia di giocare delle semplici tra molte virgolette missioni del cabbo dove appunto dovete ammazzare i nemici, fare questo, fare quello, fotografare questo, fotografare quell'altro eccetera eccetera. Quindi mi raccomando snack e giubbotti prima di iniziare queste missioni. Riguardo la seconda missione ovvero gli insoliti sospetti questa devo dire che è relativamente semplice tutto quello che dovrete fare sarà sostanzialmente raggiungere due covi all'interno insomma della mappa che verranno segnati con i relativi punti. È indifferente quale punto scegliete per primo potete iniziare appunto anche dal punto B per farvi capire. Una volta quindi che sarete arrivati sul posto semplicemente prendete il vostro pompa d'assalto e iniziate ad ammazzare tutti i nemici lasciando però attenzione il capo diciamo tra virgolette di questo gruppo che si troverà appunto nella missione. Quindi ammazzate i nemici ma lasciate vivo il capo di questo gruppo tra virgolette. Quindi una volta che avrete ammazzato i nemici e trovato il capo aspettate che appunto Dax andrà a parlare con questo capo tramite insomma il viva voce del vostro cellulare. Una volta fatto questo come vedete non succederà nulla dovrete semplicemente proseguire la missione quindi salite sul vostro veicolo e raggiungete anche il secondo covo. Arrivati qui anche qui la stessa cosa ragazzi insomma prendete un fucile un MG o quello che è ammazzate tutti i nemici lasciando vivo però il capo del gruppo. Quindi una volta aver trovato il capo semplicemente avvicinatevi parlate con il capo non dovrete premere né freccia destra né altro semplicemente avvicinatevi. Aspettate insomma che il gioco vi dà nuove indicazioni quindi una volta fatto questo ci sarà un terzo punto da raggiungere. Questo punto si troverà al centro di Los Santos quindi una volta che sarete arrivati in questo punto dovrete fare la stessa identica cosa che avrete fatto con i due punti raggiunti in precedenza sulla mappa all'interno della missione. Quindi arrivate prendete la vostra carabina il vostro pompa o quello che è e ammazzate appunto tutti i nemici lasciando chiaramente vivo il capo tra virgolette che insomma ve ne potrete accorgere perché verrà segnato con un'icona bianca sul vostro radar. Quindi una volta aver ammazzato i nemici avvicinatevi al capo lasciate che le varie scritte insomma di quello che dicono ecco i personaggi scorrano e una volta fatto questo ragazzi avrete l'ultimo punto da raggiungere ovvero Elysian Island accanto al porto di Los Santos. Quindi salite sul vostro veicolo e raggiungete questa locazione. Una volta che sarete arrivati dovrete cercare un magazzino dove all'interno ci saranno delle cose che appunto dovrete recuperare per proseguire tra virgolette la storia ecco di questo DLC. Il magazzino è questo qui che state guardando all'interno del video ve ne potrete accorgere perché fuori da questo magazzino ci sarà questo SUV nel mio caso colorato di grigio. Poi non so se il colore ecco di questo SUV varia per diverso giocatore comunque potrete riconoscere facilmente il magazzino perché ci sarà questo SUV appunto parcheggiato fuori dal magazzino. Vi consiglio anche di passare diciamo sul lato posteriore per trovare facilmente appunto il magazzino. Una volta fatto questo quindi ci sarà un tastierino da violare quindi semplicemente avvicinatevi al tastierino e fate quello che vi chiede il gioco di fare. Dovrete violare il sistema di sicurezza per farvi capire. A questo punto ragazzi le porte del garage si apriranno e qui attenzione perché dovete fare le foto a 5 indizi che troverete all'interno di questo magazzino. Il primo indizio è questo tesserino farmaceutico che vi permetterà di proseguire all'interno della storia e si troverà appena entrate nel magazzino sulla sinistra sopra questa scrivania. Quindi vi avvicinate il gioco vi dirà che appunto avete trovato il primo obiettivo da fotografare quindi alzate il telefono fate una foto all'obiettivo e una volta fatto questo a posto avrete scoperto ecco il primo indizio. Il secondo indizio invece è questa cassa di farmaceutici almeno credo che siano dei farmaci quindi anche qui semplicemente fate la foto e inviatela a DAX si troverà proseguendo sul lato sinistro del magazzino. Il terzo indizio da fotografare invece sarà questa lavagnetta che potete trovare davanti a questi divanetti la potete facilmente trovare perché appunto ci saranno questi due divani come vedete i divani ragazzi lì c'è la lavagna insomma avvicinatevi il gioco vi dirà che avete trovato un altro obiettivo quindi fate la foto e mandatela a DAX. Il quarto indizio invece sarà praticamente questo documento si troverà insomma su questo cassonetto rosso come potete vedere quindi vi avvicinate il gioco vi dice che avete trovato insomma questi documenti alzate il telefono fate la foto mandatela a DAX e boom. Mentre per quanto riguarda il quinto e ultimo indizio sarà questa cassa di armi come anche esplosivi munizioni e quant'altro che potete trovare praticamente alle spalle del primo indizio ovvero del tesserino insomma che appunto avete trovato come primo indizio. Quindi anche qui semplicemente alzate il telefono fate la foto la inviate a DAX una volta fatto questo avrete concluso ora dovrete semplicemente aspettare che DAX riceva le foto e vi contatterà e una volta fatto questo ragazzi dovrete semplicemente recuperare questo tesserino ovvero il primo indizio che appunto avete recuperato quindi andate sopra questo scaffale premete freccia destra per recuperare il tesserino e una volta fatto questo boom. Semplicemente salite sulla vostra moto datevela a gambe allontanatevi dalla zona e a questo punto ragazzi boom la seconda missione sarà completata ovviamente per maggiori dettagli e informazione nel caso qualcosa vi sia sfuggito troverete ragazzi il video di questa missione la clip integra la clip per intero sul mio secondo canale senza ovviamente il commento ma solamente con il gameplay per aiutarvi appunto a trovare gli indizi di questa missione. Quindi a questo punto ragazzi la missione si andrà a concludere e boom sarete pronti a iniziare e quindi completare la terza missione ovviamente aspettate la chiamata di DAX una volta fatto questo ricordatevi chiaramente snack e giubbotti. Questa missione è davvero molto semplice dovrete semplicemente ragazzi recarvi nella sede della Freedmind ovvero una specie di ospedale gestito dal dottor Freedlander che come vi ho accennato insomma nel video dell'annuncio del DLC è tornato lo dovremo quindi annientare perché sarà un nemico che ci darà filo da torcere in questa storia di ultima dose. Quindi semplicemente salite sul vostro veicolo recatevi dove appunto c'è la sua sede che sarà in questo punto della mappa vicino praticamente alla sala giochi più costosa del gioco. Quindi scendete dalla moto seguite lo stesso percorso che ho fatto io nel video salite queste scale e qui ragazzi sulla sinistra troverete questa porta bianca in cui appunto dovrete entrare tramite il tesserino ottenuto nella missione precedente. E a questo punto ragazzi sarete all'interno dell'edificio all'interno dell'edificio dovrete praticamente recarvi all'ultimo piano quindi prendete il vostro fucile a pompa d'assalto ammazzate tutti i nemici raggiungete l'ultimo piano e una volta ragazzi che sarete arrivati all'ultimo piano dovrete cercare due indizi ovvero il documento sulla brat e le chiavi per accedere al seminterrato. Purtroppo però questi indizi non hanno una diciamo posizione fissa ma sono variabili giocatore per giocatore le chiavi comunque sia avranno questa forma quindi semplicemente girando per appunto il terzo piano guardate bene da tutte le parti le scrivanie eccetera fino appunto a trovare le chiavi come anche il documento. Quindi una volta aver trovato le chiavi come vedete il radar insomma vi lampeggerà e vi uscirà la scritta in alto a sinistra per appunto premere freccia destra per recuperare le chiavi. Per quanto riguarda invece il documento di la brat lo potrete facilmente riconoscere perché come vi sto mostrando in questo momento nel video ci sarà appunto la foto di la brat. Quindi una volta aver recuperato le chiavi come anche il documento sulla brat semplicemente fate il percorso inverso quindi scendete le scale dal punto in cui siete saliti fino a raggiungere il seminterrato. Una volta che sarete arrivati al seminterrato incontratevi con questo personaggio femminile una volta fatto ciò scendete queste scale premete freccia destra davanti a questa porta per accedere al seminterrato. A questo punto ragazzi anche qui solita storia prendete la vostra arma preferita ammazzate i nemici avrete parzialmente quasi concluso la missione non e ripeto non usate esplosivi come ho fatto io nel video perché altrimenti ragazzi ucciderete la brat e la missione andrà a fallire quindi potete usare sì gli esplosivi però fate attenzione perché in questo magazzino ci sarà anche la brat. Chiaramente se lo ammazzate fallirete la missione quindi insomma ammazzate i nemici e una volta che avrete fatto piazza pulita dei nemici ragazzi inizierà questo filmato in cui appunto vostro personaggio e questo personaggio femminile che fa parte insomma della crew dei fuligans andrà a liberare la brat. Da notare come durante questo filmato comparirà appunto il dottor Friedlander come vi ho detto prima quindi tornerà il dottore che appunto ha avuto come paziente anche Michael De Santa nella modalità storia tornerà per insomma essere un principale antagonista di questa storia. Comunque vabbè fatevi il filmato e una volta fatto ciò ragazzi per concludere la missione dovrete semplicemente riaccompagnare la brat come anche insomma quest'altro personaggio femminile al freak shop. Quindi fatevi strada tra i nemici tornate al freak shop e una volta fatto ciò ragazzi boom avrete concluso anche questa terza missione. Chiaramente vi ripeto snack e giubbotti e soprattutto state attenti perché queste missioni da come ve le sto spiegando possono sembrare facili ma fidatevi ragazzi che io ho avuto diciamo abbastanza filo da torcere contro questi nemici. Comunque ripeto se siete bravi soprattutto se traiardate su GTA siete bravi ad usare le armi a saper giocare a sapervi muovere non dovreste avere troppi problemi. Parlando invece della quarta missione questa ragazzi è praticamente una missione moddata di rockstar e no non sto scherzando ragazzi è veramente una missione moddata che finirà praticamente solo quando andremo a morire. Strano ma vero ragazzi quindi potete anche far terminare subito questa missione. Comunque come funziona per prima cosa dovrete raggiungere questa locazione nella mappa ovvero la clinica di riabilitazione dove qui praticamente una volta arrivati dovrete fare piazza pulita anche qui dei nemici finché il gioco non vi dirà di raggiungere insomma questa porta che vi farà diciamo entrare tra virgolette nella clinica. Appena vi avvicinerete alla porta andrete a premere freccia destra come potete vedere ragazzi boom il dottor Friedlander figlio di una bastarda che non è altro ci farà fare un super trip assurdo in cui il personaggio sarà sostanzialmente drogato tutto quello che dovremo fare in questa missione sarà semplicemente ammazzare i nemici all'infinito fin quando insomma questi nemici non ci andranno a ammazzare. Avete capito bene ragazzi perché da questo momento in poi una volta che diciamo il dottor Friedlander vi andrà a drogare inizierà appunto questo trip incredibile e infinito in cui ci saranno alieni, cheeseburger volanti, cloni del dottore, cloni del vostro personaggio, cloni di Dax, cloni della tizia. Insomma ragazzi è una missione che nemmeno il gioco sa che cosa dovete fare e insomma ripeto la missione andrà a terminare quando insomma non andrete a morire. Comunque vi consiglio di tra virgolette resistere e quindi di sopravvivere il più a lungo possibile perché insomma questa missione è letteralmente moddata da Rockstar Games in quanto in questo trip vedrete cose che non esistono. Quindi prima ci saranno gli alieni che dovrete ammazzare poi i tizi con la maschera di hamburger poi il dottor Friedlander clonato e moltiplicato con l'arma in mano che vorrà ammazzarvi. Voi dovete appunto prendere l'arma e ammazzarlo poi addirittura dei cloni del vostro personaggio insomma ragazzi vi consiglio di giocare questa missione punto non c'è altro da dire tant'è vero che anche il gioco quando dovrete far terminare la missione vi dirà con una finestrella in alto a sinistra nel vostro gameplay che appunto la missione terminerà quando vi sarete fatti ammazzare. E niente ragazzi una volta che qui andrete a morire come potete vedere insomma vi dirà che siete sopravvissuti vabbè guadagnerete dollari RP JP quello che è vabbè vabbè fino a quando insomma non vi troverete in free mode. A questo punto ragazzi nulla la missione sarà conclusa e tutto quello che dovrete fare sarà semplicemente effettuare la quinta e ultima missione di questo DLC. La missione quindi si chiama budonca donca ovviamente prima di avviarla vi ricordo di fare il rifornimento di snack e giubbotti quindi una volta fatto questo insomma questa missione è relativamente molto semplice non vi richiede nemmeno tanti sforzi per essere onesto comunque inizia in questo modo. Per prima cosa dovrete raggiungere il vellum che appunto si troverà in questo punto della mappa quindi salite sul vellum e dovrete recarvi all'aeroporto di Los Santos. A questo punto una volta che sarete in volo verso l'aeroporto come potete vedere ci sarà questo enorme cargo plane in cui sostanzialmente dovrete entrarci letteralmente per poi farlo atterrare e diciamo rubare ecco tutta la merce che si trova all'interno di questo cargo plane. Quindi appena arrivate all'aeroporto dovrete stare il più vicino possibile all'aereo questo perché dovrete appunto violare il sistema di sicurezza. Potete capire a che punto è lo stato di violazione di sicurezza tramite la barra che appunto ci sarà in basso a destra nel vostro gioco. Una volta che la barra si sarà riempita il sistema verrà violato infatti come potete vedere ci sarà questo filmato in cui praticamente il personaggio appazzo si butterà all'interno insomma della stiva ecco di questo aereo. Quindi una volta che sarete atterrati dovrete anche qui fare piazza pulita dei nemici. Un consiglio che vi do in questa missione è quello di prendere il vostro lancio granate dopatissimo e quindi fare lo spammettino come state vedendo in questo momento nel video. Se non sapete come si fa semplicemente dovrete stare camperati a questo punto prendete il lancio granate e premete R2. Non tenetelo premuto ma premete appunto spammate il tasto R2. In questo modo il personaggio come vedete lancerà granate all'infinito. Quindi ammazzate tutti i nemici raggiungete queste scale all'interno della stiva qui ragazzi inizierà un filmato che praticamente insomma è un filmato in cui vi fa vedere che il dottore se la dà a gambe eccetera eccetera fino ad arrivare al punto in cui il vostro personaggio si metterà alla guida di questo cargo plane. Fantastica ragazzi sta missione è veramente bellissima anche perché questa missione è l'unica missione nell'online in cui possiamo appunto guidare questo cargo plane. Quindi insomma tanta tanta roba comunque vi consiglio di giocarle queste missioni perché soprattutto la quarta terapia d'urto perché è qualcosa di incredibile ragazzi cioè veramente comunque. Arrivati a questo punto con il vostro cargo plane semplicemente andate a Sandy Shirts quindi raggiungete la pista di atterraggio di Sandy Shirts una volta che sarete nelle vicinanze come vedete inizierà il filmato. A questo punto arriverà Dax con questo furgone questo camion insomma in cui dovrete caricare tutta la merce che appunto si troverà all'interno del cargo plane. A questo punto una volta che il filmato sarà concluso dovremo praticamente coprire le spalle a Dax fin quando non avrà caricato il furgone. Quindi a questo punto una volta che Dax avrà finito di caricare il furgone dovremo guidarlo noi e portarlo fino al freak shop. Prima di fare questo dovrete seminare gli sbirri. Quindi salite sul camion una volta fatto ciò guidate fino al freak shop prima però di andare al freak shop ragazzi trovate un modo per appunto seminare gli sbirri. Una volta che avrete seminato la polizia semplicemente tornate al freak shop e boom ragazzi la missione sarà conclusa. E adesso avrete quindi completato tutte e cinque le nuove missioni di questo DLC. Quindi a questo punto una volta aver completato tutte quante le missioni sbloccherete sia il prezzo scontato della super elettrica Ocelot Virtue come anche la riceverete all'interno del vostro account completamente in maniera gratuita. Esatto ragazzi avete capito bene potrete avere la nuova super Ocelot Virtue completamente in maniera gratuita semplicemente completando queste cinque missioni. Perché una volta che avrete finito la quinta missione dovrete aspettare all'incirca un 2-3 minuti di gioco all'interno appunto della sessione. Dax vi chiamerà e vi dirà che l'auto del dottor Freedlander ovvero la Ocelot Virtue è stata sequestrata. E sostanzialmente noi dovremo dunque andare nella locazione dove si troverà questa super. La locazione si trova in questo punto della mappa. Quindi semplicemente raggiungete il punto qui ragazzi troverete la nuova super. Vi basterà semplicemente salire all'interno e vi si aprirà la lista di tutte le proprietà che avete all'interno del gioco. Quindi tanta tanta roba. Ora quindi scegliete una proprietà e boom ragazzi l'auto sarà vostra. Purtroppo quindi non c'è modo di avere quest'auto almeno per il momento. Se non appunto completando sia le missioni di prima parte come anche le missioni della seconda parte di questo DLC Drag Wars. Quindi per avere questa macchina dovete completare sia le missioni prima dose come anche le missioni di ultima dose. E una volta averle completate tutte quante andrete a ricevere gratuitamente sia questa macchina come anche sbloccare il prezzo scontato di questo veicolo. Quando diventerà disponibile sul sito di Legendary Motorsports. Per avere quest'auto quindi le opzioni sono due. O vi completate tutta la storia del DLC Drag Wars. E una volta averla completata vi chiama DAX per farvi avere questa macchina. Oppure dovrete abbonarvi a GTA Plus che è un abbonamento disponibile solamente per le versioni next gen. Quindi parlando di nuovi veicoli abbiamo appunto questi due nuovi veicoli ovvero la Ocelot Virtue come anche la Willard Eudora. Per quanto riguarda invece i possessori di PS4, Xbox One e PC purtroppo l'unico modo per avere quest'auto è quello di giocare le missioni. Parlando quindi della Super Virtue questa normalmente costa 2.980.000 dollari senza sconto oppure 2.235.000 dollari con lo sconto. Per sbloccare lo sconto come vi ho già detto dovrete completare tutta la storia del DLC di Drag Wars. È un veicolo super a due posti elettrico pertanto non avrà il motore. Riguardo questa macchina ci sono insomma molte livree che si ispirano insomma al suo modello nella vita reale. Troverete il video sul mio secondo canale anche qui senza commento in cui vi mostro le modifiche di questo veicolo su appunto il secondo canale. Quindi se siete interessati link qua sotto in descrizione. Una cosa che dovete sapere su questa Super Virtue è che può essere modificata all'interno dell'officina dell'agenzia. Quindi potete trasformare questo veicolo in un veicolo di Imani. Dunque applicando la blintatura come anche l'unità di controllo remoto, i disturbatori eccetera eccetera eccetera. Insomma come abbiamo visto nel DLC The Contract. Quindi una marcia in più riguardo questo veicolo anche perché è una sportiva a due posti. Elettrica e può essere modificata anche nell'officina dell'agenzia applicando queste modifiche oltre appunto a poter essere modificata in un qualsiasi Los Santos della città. Chiaramente ricordatevi che se la portate nell'agenzia e magari più avanti la volete modificare in un Los Santos Custom non potrete farlo perché ci saranno le modifiche di Imani applicate su questo veicolo. L'altro veicolo invece è la Willard Eudora. Un veicolo low rider che però fa parte della categoria Muscle. Si trova sul sito di Southern San Andreas al prezzo di 1.250.000 dollari. E questo veicolo ha un unico prezzo. Pertanto non ci sono sconti riguardo questo veicolo. Anche qui nel video in cui vi ho parlato del DLC avrei detto che questo veicolo molto probabilmente si poteva modificare da Benny. Purtroppo ragazzi così non è perché come state vedendo appunto in questo momento nel video l'auto non può essere modificata da Benny. In compenso però la potete modificare insomma in un qualsiasi Los Santos Custom come anche insomma all'interno della vostra officina dell'arena. Questo veicolo è appunto una mascola a quattro posti e l'unica particolarità di questo veicolo è il fatto che si trova anche su GTA 6. Nelle clip che sono state leakate a settembre 2022 da quel famoso ragazzino che entrò nei server di Rockstar e appunto aveva messo a pubblico le clip della beta di GTA 6. Si può vedere questo veicolo purtroppo non posso mettervi le clip comunque se vi fate un giro in rete troverete sicuramente la clip in cui si vede questo veicolo anche su GTA 6. E nulla insomma ragazzi è una mascola a quattro posti che si trova su Southern San Andreas. Anche qui se volete vedere il video e le sue modifiche troverete il video sul mio secondo canale in cui appunto vi mostro questo veicolo e come si modifica. Concludendo questo lungo video qui ragazzi potete vedere tutti i nuovi capi di abbigliamento rilasciati con questo DLC. Quindi abbiamo le giacche denim sulle parti superiori poi sui pantaloni abbiamo la categoria jeans designer che appunto state vedendo in questo momento. E niente ragazzi altri occhialini accessori catenine scarpe e chi più ne ha più ne metta insomma troverete tutto quanto ecco con lo scorrere del gameplay. Quindi ricapitolando che cosa abbiamo con questo nuovo aggiornamento. Due nuovi veicoli le 5 nuove missioni nuovi capi di abbigliamento nuove maschere nuove pitture facciali come anche nuovi tatuaggi. Questo è la sintesi ecco di questo nuovo DLC che ripeto non è stato rilasciato tramite patch fisica ma tramite aggiornamento settimanale perché la patch fisica l'abbiamo già scaricata qualche giorno fa sulle nostre console. Il DLC ripeto è disponibile per tutte le console. Detto questo ragazzi nulla io spero abbiate apprezzato insomma ho fatto del mio meglio per cercare di ricapitolarvi tutto in un unico video come funzionano le nuove missioni come si fanno che cosa abbiamo di nuovo i nuovi veicoli eccetera quindi spero abbiate apprezzato. Vi ricordo che se vi rompete il cazzo di giocare queste missioni e volete avere tutto e subito potete contattarmi ad uno dei contatti che troverete qua sotto in descrizione per aggiunta soldi, aggiunta deluxo, account moddati con miliardi, corsa moddata, abilita al massimo. Per tutte le piattaforme di GTA Online al prezzo più basso in Italia come anche aggiunte nel vostro account personale link del mio shop qua sotto in descrizione. Mi raccomando ragazzi passate perché è molto importante. Vi ricordo anche di venirmi a seguire su tutti gli altri socials come Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e chi più ne ha più ne metta e nulla ragazzi noi ci vediamo più tardi con nuovi video qua sul nuovo DLC mi raccomando non mancate e soprattutto mi raccomando stasera in live ore 21 non mancate perché ci andiamo a finire di giocare queste missioni. Detto questo ragazzi niente qua da Crix è tutto, vi saluto e vi ringrazio e noi cominciamo a tutti ci si becca un prossimo video, un prossimo glitch. Balla voglio! Balla voglio!